Un saluto a tutti da Redaktion, di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiocciodarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia, perché questa per il comune di Vallefoglia è stata la settimana del ritorno in zona gialla. Una notizia che si attendeva da bene due settimane e che è stata ufficializzata dalle presidenti della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nella giornata di martedì. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Cchielli, si è detto contento per questo traguardo, ribadendo però come devono assolutamente essere fatti più vaccini. Sentiamo. Una notizia molto positiva, era molto aspettata dalla comunità, dall'attività economica, dai cittadini. Si poteva evitare francamente, perché eravamo lì con i contagi più o meno quelli. Quindi ho avuto modo di spiegare che questa è un'area omogenea su cui ricade tutto su Vallefoglia, in conto che tu fai i conti su 50.000 abitanti, in conto che lo fai su 15.000. Chiaro che sballa tutti i parametri, la norma prevede, diciamo, in un quadro provinciale, operare omogenee. Però è andata così. Adesso bisogna continuare a restare attenti, perché come si è visto in Sardegna, si può passare dalla zona bianca alla zona rossa. Ma poi, soprattutto, bisogna fare tutti i vaccini. Francamente sono un po' preoccupato, perché vedo che non vanno avanti con i vaccini. Invece bisogna fare tutti i vaccini per toglierci di mezzo a questo Covid e ritornare alla vita normale, alle attività economiche e produttive, alla scuola, alle attività commerciali. Questa è un'area commerciale molto importante, che vengono a lavorare per tutte le attività economiche, nei supermercati, negli esercizi commerciali. È chiaro che portano benessere e ricchezza, ma in questi casi portano anche infezioni. A proposito di vaccini, continua la sua richiesta di un punto vaccini alla mensa, all'ex mensa di Talacchio. Come procede la situazione? Nell'interlocuzione col Presidente della Giunta regionale e con l'assessore non solo siamo riusciti a ritornare in zona gialla, ma anche a avere la disponibilità per fare un punto vaccini. Il problema è che non ci sono i vaccini. E poi ci devono essere i medici che fanno i vaccini. Quindi stiamo lavorando per fare in modo che ci siano i vaccini e stiamo cercando di ragionare con i medici di medicina generale perché ci sia la disponibilità a fare nei loro ambulatori, ma in questo caso nella zona di Talacchio, che si presta benissimo per fare i vaccini per tutti, evitando gli spostamenti su Pesaro. E anche il Comune di Montellabate, che così come è successo per Vallefoglia, è rimasto in zona di arancione rafforzato per due settimane, è tornato in giallo a partire dalla giornata di mercoledì. Il Sindaco Cinziaferri ha sottolineato di come si accontenta, soprattutto per le varie attività, come bar e ristoranti, che finalmente possono ritornare ad una situazione migliore rispetto a quella precedente. Il pensiero principale è stato quello subito di avvisare ai ristoratori, i pizzaioli e i baristi, perché finalmente da oggi possono svolgere un'attività quasi normale, per cui magari ricevendo anche il cliente senza fare questo asporto, che poi di fatto non è che ha una rendita importante per il loro fatturato. Dopodiché ho pensato ai ragazzi, adesso stiamo mettendo, stiamo già cercando di capire come possiamo muoverci per creare degli impianti sportivi all'aperto in modo tale da renderli utilizzabili dai giovani. Abbiamo già stanziato dei soldi per creare un'area attrezzata come quelle che si vedono ormai ovunque di fitness all'aperto. Cercheremo un attimo di valorizzare questa cosa, perché comunque è importante anche ridare un po' di vita libera all'aperto e di sport che in questi ultimi mesi è stato veramente tanto penalizzato. La nostra disponibilità va anche alle società sportive, a tutti quelli che facevano e svolgevano sport all'interno del nostro territorio, nelle nostre palestre. Anzi, gli invito a contattarci perché comunque abbiamo individuato delle aree. Speriamo che duri questa cosa, perché i dati invece in mio possesso dicono che abbiamo sempre avuto quei numeri lì. Quindi non lo so, io mi auguro che da qui almeno fino alla fine dell'anno saremo sempre gialli, anzi per tornare proprio bianchi. Quello che un po' vorrei, non voglio proprio fare una polemica, però io so per certo che ci sono dei comuni anche vicino al mio, a Montelabate, che hanno dei dati superiori a questo indice e non è stata applicata la stessa misura, perché a oggi non c'è un'ordinanza restrittiva nei confronti di nessun comune marchigiano. Ecco, questo, come dicevo l'altra volta, non lo ritengo molto corretto, perché se si applica, se si prende una strada bisogna portarla avanti sempre, a prescindere di chi si incontra sulla propria via. Perché comunque nelle scuole, sì, abbiamo avuto delle classi in quarantena, ma non abbiamo mai dovuto chiudere dei plessi. Quindi questo sta a significare che il veicolare avviene tramite la zona industriale, perché non abbiamo centri commerciali, non abbiamo supermercati, per cui è facile capire da dove arriva. Voglio fare un augurio a tutte le famiglie che ancora sono in quarantena, che ancora stanno combattendo questo virus. C'è chi sta un po' meglio, c'è chi sta un po' peggio. Io comunque gli faccio i miei auguri, sia da parte mia che da parte di tutta l'amministrazione comunale, per una pronta guarigione. E con il ritorno in zona Zala scatta nuovamente l'ora dell'aperitivo al bar, visto che con le nuove disposizioni le attività possono rimanere aperte fino alle 22, servendo al tavolo solamente però all'aperto. Una limitazione che non permette un lavoro a pieno regime, ma che fa tirare un sospiro di sollievo ai titolari dei locali. Vediamo il servizio. Finalmente una buona notizia. Sono state settimane dure per noi di Vallefoglia, che come tutti sapete ci hanno tenuto arancioni per più tempo. E adesso finalmente siamo tornati gialli, anche se si può stare solo all'aperto, almeno possiamo tornare a fare quello che ci piace di più, quindi gli aperitivi. I clienti hanno recepito questa notizia in modo molto positivo, infatti già mi sono arrivate tante prenotazioni per il weekend e quindi sono solo che contento. È più un neo, quella del solo all'aperto o quella del coprifuoco? Già, solo all'aperto è un bel problema per il tipo di attività che facciamo noi. quella del coprifuoco è... trovo che sia una cosa imbarazzante dover chiudere per forza tutto le 22. In questo momento però non ci troviamo al caffè 2 più 6, ma ci troviamo in un altro locale che sei in procinto di aprire con altri tuoi soci, non possiamo svelare nulla, però c'è tanta voglia di iniziare. Guarda, non vediamo l'ora, stiamo preparando tutto a puntino, stiamo sistemando la cucina, facendo tutte le prove, il posto tu lo vedi, anche se non possiamo svelarlo, e non vediamo l'ora di poter partire. Sicuramente non mancherà tanto, non mancherà tanto e avviseremo tutti i nostri coincittadini di questa... quando avverrà questa apertura. Allora, si chiamerà La Roomba e il concetto... La Roomba Concept Pub, quindi è proprio un nuovo concetto di... diciamo, ristorazione. Hamburger, con panini prodotti da noi, i bandi faremo noi, pizza al padellino e sushi. Una bella sfida, combinare tre cucine in un unico posto, ma a noi ci piacciono le sfide nuove e difficili, soprattutto per questo momento. Fortunatamente è una boccata di ossigeno, ci permettono di fare sedere i nostri clienti al tavolo, anche se solo all'aperto. Fortunatamente noi abbiamo tanto spazio e speriamo di continuare, di migliorare sempre questa situazione. Delle due limitazioni, qual è quella che più incide? Quella della sera. Le limitazioni della sera, in un locale predisposto come il nostro per eventi, le 10 sarebbe quanto tempo cominci a lavorare. Però la gente si adatta. Partiamo prima. Sono arrivate qualche prenotazioni per il weekend? Sì, tante. Anche dalla settimana scorsa, prima che si sapesse di che tornevamo a Rancioni. Questa settimana hanno prenotato già tutti i tavoli, i posti sono limitati, quindi la gente lo sa e si è mossa molto bene, prima. Io me lo auguro, lo vedo come un inizio, sperando a un'estate che almeno sia come quella dell'anno scorso, alla normalità quasi. E ora parliamo di una bella iniziativa perché il Comune di Vallefoglia ha comunicato che è ora possibile laurearsi proprio presso la sede comunale. Nell'ultima giunta tenutasi il 4 maggio, infatti, è stato disposto di concedere gratuitamente l'utilizzo della Sala delle Consiglio e della Sala Alfieri della Sede Municipale di Sant'Angelo in Elizzola, della Sala delle Calassero a Montefabbri e della Sala delle Consiglio Comunale a Colbordolo. Con questa iniziativa, ha precisato il sindaco Cucchielli, l'Aggiunta Comunale ha voluto offrire ai giovani la possibilità di vivere un importante momento della loro vita, come quello della discussione della tesi di laurea, in un contesto istituzionale, permettendo agli studenti di trascorrere insieme alle persone più care e nel rispetto delle normativi in vigore in questo periodo di emergenza sanitaria. E dopo la presentazione del nuovo portale turistico ottenutasi la scorsa settimana, il Comune di Vallefoglia ha raddoppiato la sua promozione turistica con la realizzazione delle progetti di mappatura dei percorsi ciclo turistici, che sono stati presentati con una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Noi andiamo a sentire le voci dei protagonisti della conferenza. Come Montefelto Adventuro abbiamo progettato questi sei itinerari ciclo turistici accessibili dal portale del Comune di Vallefoglia, da visitvallefoglia.it e dalla pagina itineraria è possibile visitare quattro itinerari su strada e due itinerari fuori strada. Gli itinerari su strada prevedono il percorso arte collegandosi alla città di Urbino, il percorso natura collegandosi al Parco Naturale delle Cesane, il percorso mare collegandosi a Pesaro, alla Panoramica e a tutta la zona dei borghi del Pesarese e il percorso dei borghi e castelli che si collega alla parte dell'Emilia Romagna e quindi a tutti i borghi di Montaino, Saludecio, Gradara e quant'altro. Dalla pagina di visitvallefoglia l'utente può cliccare e raggiungere l'applicazione che si chiama Comot praticamente sulla quale noi abbiamo caricato tutte le informazioni per il turista che può avere sia delle info sugli highlights sia quindi da visitare sia le info sul percorso e quindi le caratteristiche chilometriche del dislivello, può visualizzare l'altimetria, può scaricare le tracce sul proprio dispositivo Garmin o semplicemente scaricando l'applicazione che è completamente gratuita sul proprio smartphone, navigare il percorso attraverso il proprio telefono, addirittura può anche concedersi delle deviazioni se nel caso lungo il percorso sulla mappa trova dei punti di interesse che gli interessa visitare. Abbiamo già annunciato che avremmo presentato con coloro che abbiamo incaricato che poi illustreranno nel dettaglio i cinque percorsi cicloturistici per valorizzare il territorio anche dal punto di vista turistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico e per anche la tutela del benessere e della salute delle persone perché ovviamente anche diciamo la bicicletta, il tipo di bicicletta è piuttosto anche faticosa, aiuta a far star bene le persone, quelli che hanno qualche chile in più forse gli fa anche ancora più bene. e poi i posti più belli insomma che si possono visitare nel percorso di questi cinque sentieri importanti che coinvolgono più comuni, credo sono sette, otto comuni mi pare che vengono coinvolti quindi c'è anche un interesse diciamo sovracomunale che non guasta nella valorizzazione della parte interna del territorio rispetto alla costa. Bisogna anche prendere atto che tutto sommato in un momento drammatico come quello che di questo ultimo anno per effetto della pandemia voglio dire si è riscoperto da parte di tanta gente la bellezza di poter utilizzare la bicicletta e poter camminare. Quindi è evidente che le amministrazioni hanno il compito di incentivare questa possibilità e oggi siamo qui per questo perché vogliamo unire la possibilità di dare sul nostro territorio dei percorsi che possono essere chiaramente seguiti dagli appassionati ma non solo dagli appassionati anche perché sono di diverse difficoltà ad un messaggio che è anche di tipo turistico questa è una zona estremamente interessante dove la bicicletta ha avuto sempre un ruolo estremamente importante sono state fatte le tappe del Giro d'Italia da Pesero a Urbino la strada di Raffaello in passato veniva fatto il percorso degli assi sul monte di Colbordolo per cui ecco c'è anche una tradizione ciclistica oltre che motociclistica molto importante nel nostro territorio e vogliamo valorizzare tutti questi aspetti perché poi possiamo fruire di un ambiente che sicuramente è un ambiente bellissimo ricco di storie di tradizioni di cultura per cui l'unione di questi aspetti una mobilità dolce un modo diverso anche di stare sul territorio assieme alla cultura e alla storia che fanno parte del nostro patrimonio e dopo qualche botta e risposta avvenuto tramite il social network tra il Movimento 5 Stelle di Vallefoglia e l'associazione Diversamente in merito ad un incontro avvenuto online tra le due figure in questione sulla tematica del biodigestore il consigliere comunale del Movimento Mirko Bezicheri ci ha spiegato meglio in che cosa consisteva la diatriba vediamo il servizio la mia esterazione non vuole aumentare insomma alimentare ancora di più la polemica verso l'associazione Diversamente per il tema biodigestore non è altro che era da puntualizzare il fatto su una conferenza un video che abbiamo fatto insieme all'associazione in merito proprio per il discorso del biodigestore se troviamo dei punti in comune con loro noi abbiamo evidenziato alcuni punti nei loro confronti che non ci piaceva il modo di come si sono insomma improntati nell'affrontare questo tema infatti in questo video viene descritto questo atteggiamento nei loro confronti quindi noi volevamo solo che questo video diventasse pubblico la nostra consigliera Marzia Cartoceti ha cercato più volte di reperire questo video con addirittura tre pecche quindi ci sembrava opportuno visto che la risposta da parte del presidente Torcoletti non diciamo era sempre sempre sul vago e allora era opportuno appunto uscire con un articolo per denunciare questo insomma e quindi dopo di questo alla fine il video ci è stato consegnato attraverso una una chiavetta quindi la nostra uscita quindi ha funzionato in questo la replica per quanto riguarda la replica del del presidente Torcoletti non era nostra intenzione insomma mancare di rispetto ai ai cittadini che hanno firmato quella petizione assolutamente anzi il nostro scopo era quello proprio di avere una maggiore informazione visto che a me è capitato per lavoro andare insomma a interloquire con diversi clienti e io ho chiesto qual era il metodo per insomma per come vi hanno informato di questo e molti sono rimasti mi hanno esternato il fatto che comunque sia dicevano che era una discarica che era addirittura addirittura un inceneritore quindi è questo il nostro messaggio che non deve arrivare in questo senso e quindi noi ci siamo attaccati verso questa associazione proprio per questo motivo l'altro punto che ha replicato il presidente Torcoletti era sul fatto che noi nel video dicevamo che l'associazione non è ambientalista ma è un'associazione culturale e quindi nel video si evince questo e quindi era più che altro per dare trasparenza verso i cittadini quindi è un'associazione culturale non ambientalista che dopo deve valorizzare alcuni punti che sono sia l'ambiente che la cultura che altre al turismo quindi è un po' una sorta come una proloquo quindi in questo senso l'altra cosa era sul fatto che i manifesti che loro hanno esternato per dimostrare insomma la discarica e la qualità di vita che c'è dopo questo biodigestore per noi era scandaloso questo fatto che c'era un manifesto dove c'era una gru con tanti rifiuti e dove venivano smistati questo non è un messaggio diciamo trasparente quindi è un messaggio negativo quindi bisogna dire sia i lati positivi e i lati negativi del biodigestore tutto qua alla fine questo video ci è stato consegnato però ci rammarichiamo perché ancora ci devono dare una liberatoria su questo e quindi aspettiamo la liberatoria da parte dell'associazione per poterlo pubblicare intanto in questo periodo procedono spediti i lavori di realizzazione del nuovo comune di Montecchio il sindaco di Vallefoglia ha fatto il punto della situazione soffermandosi sui tempi di lavoro ma anche ha parlato della nuova area di vita palestri in zona bottega disponibile a tutti coloro che intendono allenarsi all'aperto con strumenti nuovi messi a disposizione proprio dal comune è un'opera importante la casa dei cittadini della città di Vallefoglia è proprio a fianco alla casa della salute e alla scuola sempre in legno Federico da Montefeltro se tutto fila liscio il prossimo anno di questi tempi dovremmo essere lì in quella struttura nuova una struttura dove c'è anche una bella sala del consiglio che può essere utilizzata per le attività comuni da parte dei cittadini delle associazioni e così via e soprattutto c'è un forte risparmio una razionalizzazione degli uffici perché saremo tutti lì fermo restando che lasceremo delle presenze a Sant'Angelo di Lissero col bordo soprattutto per le persone anziane nelle zone collinari però ecco è un'opera importantissima e poi penseremo anche come utilizzare gli spazi che abbiamo perché sono tutti di proprietà del comune abbiamo un patrimonio di circa 50 milioni di euro abbastanza importante per rendere fruttifero insomma Comune che pensa anche ai più giovani perché a bottega verrà realizzato un punto all'aperto di fitness e palestra per i ragazzi soprattutto in questo periodo che le palestre sono chiuse da diverso tempo noi abbiamo messo a disposizione tutte le piste polivalenti che sono un bel numero nella città di Vallefoglia e abbiamo realizzato questa struttura diciamo tipo palestra all'aperto perché possono utilizzarlo anzi direi che hanno già cominciato ad utilizzarlo un posto bellissimo lì a bottega abbiamo molti parchi con molte attrezzature per i bambini quindi è una città molto giovane sono tante le copie giovanissime ma anche quelle persone più adulte possono fare del movimento della ginnastica della palestra all'aperto è un costo anche abbastanza contenuto sotto 10.000 euro però importante per la città per i cittadini per la nostra comunità e ora concludiamo parlando di sport per la megabox Vallefoglia quella contro la Sizzel e Marsala è stata una sconfitta in dolore visto che la squadra di Cozzo e Fabio Bonafede è riuscita nell'intento di chiudere le terze poste in classifica nella fase finale della polo e promozione alle spalle della Acqua e Sapone Roma promossa direttamente in Serie 1 e della BAM e Mondovì nei quarti di finale alle via mercoledì 12 maggio la megabox affronterà il volley Soverato con gara di andati in trasferta ritorno in casa ed eventuale Golden 7 in caso di parità gli altri accoppiamenti sono Mondovì Ravenna Pinerolo Marsala e Macerata Sassuolo tutti con gara di andata sulle campo delle peggio classificate E siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglie Magazine io come sempre vi ricordo che questa puntata la potrete ritrovare sui nostri social sul nostro sito web www.rossinitv.it ma anche sulla nostra app Rossini TV disponibile sia negli store Apple che negli store Android dove potete rivedere tutta la nostra programmazione inviare segnalazioni e tantissime altre cose vi rinnovo l'appuntamento con il Vallefoglie Magazine a venerdì prossimo il 14 di maggio e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti